Ciao a tutti ragazzi Ben ritrovati con questo terzo video inerente ai lavori invernali 2021 Oggi siamo qui con la pulizia e la preparazione dei mucchi dei rami per il carico che poi ci sarà nel prossimo video Come potete vedere sono da solo, una giornata molto molto ventosa, fredda e ventosa E niente sto ripulendo i rami più grossi di tutti i ramettini inutili Perché una volta niente era inutile E quindi lasciando a terra i rametti più piccoli e preparando i mucchi di rami un po' più sostanziosi Che poi verranno caricati E' un video diciamo non molto movimentato Ho fatto quindi un po' di riprese E vi lascerò qualche songs e ve lo ucciderò un po' il video Altrimenti diciamo non avrà niente di particolare Vi lascio appunto anche voi più appassionati alla visione E mi raccomando commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like E tenetevi pronti per il carico dei rami E' un po' di riprese 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 Oh my oh my E' un po' di riprese 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 E' un po' di riprese